Perché mio padre mi pubblicava col tortore, mia madre mi elettrizzava, mia madre la genitrice mi elettrizzava, mi faceva fare il cortocircuito alla termocoperta alle notte, ma io mi elettrizzavo e andavo a scuola e per andare a scuola ecco che andavo al capolinea. E io mi svegliavo alle 6 di mattina, mia madre mi incitava, dai vai a letto presto così, alle 6, fresco fresco, vai a scuola, fresco fresco, ai 6, io c'ho l'occhio abbottati del sangue, c'ho il segno del cuscino, c'ho una piadella che io stesso riflesso allo specchio, c'ho madonna mio figlio del Dio, che te sei ormai, hai giavate? L'unica cosa, io ero un andievo del laboratorio a tutti gli effetti e venne il giorno in cui io incontrai il professor, dottor, commendatore, cavaliere del lavoro, eccellenza, sua altezza santità, il grande maestro Gigi Proietti. Con questo treno dalla Borgata io arrivavo alla capitale, da Borgatale con questo treno diventavo capitalista.